E adesso apriamo la pagina in diretta, siamo a Villa Maier a Fossacesia, io do la buona serata a Stefano Recanati che saluto e che ringrazio con degli ospiti perché questo Stefano è stato un pomeriggio dedicato ad un workshop in cui si è parlato prevalentemente di trasporto ferroviario merci a livello nazionale ma certamente anche a livello soprattutto regionale e abruzzese e il ruolo che i territori, il nostro territorio in questo caso ha, all'interno di un sistema che è quello del trasporto su rotaia. A te Stefano. Sì buonasera, buonasera Jacopo, buonasera ai telespettatori del TG6, detto bene tu siamo a Villa Maier a Fossacesia dove da oggi si è aperto la due giorni dedicato alla Sangritana Cargo con un primo workshop dedicato a questo trasporto su ferro e abbiamo come ospite l'amministratore unico di Sangritana Pasquale Di Nardo che ringrazio per aver accettato il nostro invito e qui andiamo a chiedere subito, da oggi parte questa due giorni, due giorni importanti per parlare di trasporti, di trasporti di merci su ferro, l'Abruzzo è sempre più protagonista di questo. Sì intanto grazie per l'invito, abbiamo appena terminato un tavolo con illustri ospiti dal direttore generale del ministero dei trasporti, il dottor Prui all'amministratore delegato di RFI Gentile, al presidente di Fercargo che è l'associazione che riunisce tutte le imprese ferroviarie cargo private, al rappresentante di Astra, insomma compreso un segretario nazionale come Tarlazzi della Wiltrasporti per fare il punto sulla ripartenza, sulla ripartenza dopo questo Covid, sulla necessità di trovare un momento di incontro per verificare quali sono le condizioni all'interno di questo comparto produttivo e poi perché no chiaramente un riferimento a quello che è il nostro territorio, che è stata rappresentata per quelle che sono le novità legislative dalla dottoressa Morgante che ha illustrato anche la nuova legge regionale che contribuirà nel momento in cui il Consiglio regionale attraverso la sua commissione di trasporti delibererà un regolamento attuativo ci sarà la possibilità di un contributo regionale a tutti quelli che saranno vettori e quindi sostanzialmente si consentirà un contributo a tutti coloro che trasferiranno una vezione dal trasporto dalla gomma al ferro. L'assessore Campitelli che è qui con me... Sì a cui poi diamo la parola però volevo continuare un attimo con lei perché ha lo studio di Sangritana anche un progetto sperimentale per una partnership con Ferrovie dello Stato, soprattutto anche alla luce di tanti problemi che ci sono e si spera si possono risolvere al più presto sulle autostrade, quindi il trasporto su ferro ha sempre più piede? Assolutamente sì, abbiamo accennato anche oggi senza fare troppi... insomma abbiamo iniziato a comunicare che siamo arrivati a buon punto all'interno di questo studio che si tratta, lo abbiamo denominato Rola, cioè vale a dire la possibilità di superare anche quegli ingorghi e quegli imbuti che ci sono oggi e che registriamo sulle nostre autostrade ma non solo ed esclusivamente per questo ma anche per trasferire sul ferroviario quanto più possibile dalla gomma, quindi al trasporto cargo abbiamo avviato uno studio con Regione Abruzzo e RFI per poter immaginare dal termine di questa pausa estiva una nuova relazione che possa accompagnare anche perché no fino a Bologna questo trasporto di camion, di gomma Ecco prima di dare la parola, di cedere la parola all'assessore Campitelli, domani altra giornata importante perché a Paglieta ci sarà la presentazione di due nuovi locomotori della Sangritana ecco, sempre più importanti questi mezzi abbiamo già detto e lo ribadiamo ancora di più Domani inaugureremo due nuovi locomotori che saranno destinati alla trazione di treni sempre all'interno dell'automotive, dello stabilimento di Melfi, lo faremo per CFI, un'importante impresa ferroviaria italiana la terza in Italia, lo faremo, andranno i due locomotori a completare la nostra flotta di locomotori che saliranno a sei e questo insomma è motivo per noi di orgoglio, investire vuol dire anche su questo territorio immaginare anche nuove e possibili opportunità di occupazione Grazie allora all'amministratore unico di Sangritana Pasquale Di Nardo Nicola Campitelli, assessore della regione Abruzzo, lei che è del territorio ecco, il territorio qui di Fossa Cesia, di Lanciano e del circondario che diventa sempre più importante per quanto riguarda abbiamo detto i mezzi di trasporto soprattutto su ferro, c'è anche poi l'ammodernamento della stazione di Fossa Cesia Assolutamente sì, innanzitutto io mi sento in dovere di fare i complimenti all'amministratore di Sangritana Pasquale Di Nardo al presidente di Tua Gianfranco Giuliante che insieme con un'ottima strategia e sinergia hanno fatto sì che oggi questo territorio riacquisti un ruolo baricentrico rispetto a un territorio diciamo quasi nazionale. Questa sera ci sono i player più importanti a livello nazionale del trasporto su ferro. Noi come regione Abruzzo qualche settimana fa abbiamo approvato un piano delle infrastrutture strategiche e credo che lo sviluppo di una regione passi soprattutto in base allo sviluppo delle infrastrutture. Noi ci crediamo, lo stiamo dimostrando anche perché abbiamo il dovere di in qualche modo ridurre quel gap che c'è tra la regione Abruzzo le altre regioni del nord a livello infrastrutturale perché oggi tantissime aziende che stanno qui in questo territorio nella nostra regione hanno delle difficoltà nella logistica, hanno delle difficoltà nel trasporto merci e noi dobbiamo essere bravi a superare questo gap perlomeno arrivare alla pari delle altre regioni soprattutto nel nord Italia. In questo piano infrastrutturale il messaggio della regione Abruzzo è stato ben chiaro, quello di investire soprattutto nel trasporto ferroviario. Lo dicevo qualche giorno fa, oggi abbiamo superato una crisi sanitaria molto importante e questo ci ha fatto dimenticare anche in un attimino quella che è stata la grande crisi climatica in atto. Puntare sul ferro significa puntare su uno sviluppo sostenibile, quindi questa è la volontà della regione Abruzzo, il programma, lo sviluppo sostenibile che sappia coniugare bene, trovare un giusto equilibrio tra le esigenze antropiche e la tutela del nostro pianeta. A te Jacopo per qualche considerazione da studio all'assessore Campitelli. Sì, innanzitutto do la buona serata all'assessore Campitelli che giustamente parlava di investimento da parte della regione Abruzzo nel trasporto ferroviario, però assessore chiaramente questo è un discorso che non riguarda solo la regione, investe anche molto altro. È inevitabile saltando adesso dal trasporto su ferro al trasporto su gomma che non è la prima volta in questi ultimi mesi, l'Abruzzo si trova praticamente in una specie di imbuto autostradale che poi si cerca di compensare ed è giusto che sia così magari dal punto di vista del ferro, però per la gomma ci sono ancora molti problemi. L'assessore regionale che ne pensa? Non ho sentito tutto perché comunque c'era anche un po' di rumore sottofondo. Questi problemi che ci sono ancora per quanto riguarda il trasporto su gomma? Trasporto su gomma abbiamo diverse problematiche, è chiaro che abbiamo una situazione lungo la 14 che è quasi imparazzante, il Presidente Marsiglio in più occasioni ha sollecitato anche il Ministro, l'attuale Governo. Speriamo di risolvere al più presto questa problematica. È chiaro che noi paghiamo, come detto prima, a livello infrastrutturale un gap importante, sia a livello ferroviario, quindi su ferro, ma anche su gomma. Dobbiamo assolutamente rafforzare la dorsale adriatica, ma non solo con la gomma, ma anche con l'alta velocità, che purtroppo oggi non passa qui in Abruzzo. Il lavoro da fare ce n'è tanto. C'è tanto lavoro. All'epoca quando c'era il Governo Salvini, io ho avuto più di una volta occasione di parlare con il Vice Ministro Rixi, che stava puntando tantissimo sull'alta velocità in Abruzzo, anche perché rafforzare la dorsale adriatica significa rafforzare non solo l'Abruzzo, ma tutta la costa adriatica fino giù alle Puglia. Grazie, grazie mille all'assessore Nicola Campitelli. E da qui, da Fossa Cesia, è tutto. Questo workshop che continuerà, ricordiamo, domani a Paglieta con la presentazione di due nuovi locomotori da parte di Sangritana S.P.A. Quindi è davvero tutto. Allora, qui da Fossa Cesia, Jacopo, posso restituirvi la linea a voi.